Abbiamo giocato bene, abbiamo controllato bene la partita, l'abbiamo gestito bene. Potevamo fare sicuramente meglio al secondo tempo, perché secondo me c'era l'occasione, quando sei così superiore, per segnare anche qualche gol in più. Ma è chiaro che poi è anche la prima volta che giochiamo con questo caldo, che è stato un caldo importante, quindi l'energia poi alla fine erano quelle che erano. Però è chiaro che è una vittoria importante, perché sappiamo che il campionato siamo indietro e non vorremmo finire con questa posizione in classifica. Quindi vittoria è importante, ma adesso c'è da pensare alle prossime campionate. Però adesso, come sempre, pensiamo alla Champions, perché è giusto così. Sì, l'ho visto adesso, scambio due parole, adesso mi sembrava abbastanza sereno, abbastanza tranquillo. Ho avuto un affaticamento, comunque un sentore, ma non dovrebbe essere niente di particolare. Però è chiaro che le situazioni muscolari poi si valutano di più il giorno dopo. Però è chiaro che è un giocatore importantissimo, ma per fortuna chi ha fatto il suo posto e comunque questa è la dimostrazione che è il gioco della squadra, è la qualità del livello che esprime la squadra, che può fare la differenza, non è solamente un singolo giocatore. Poi se oltre al gioco della squadra hai anche delle individualità che ti possono permettere di strappare la partita, è chiaro che sei ancora più forte. Bene. Ah, ma stiamo bene, stiamo bene. Poi è chiaro che non siamo stati contenti degli ultimi risultati. Ripeto quello che ho detto ieri in conferenza stampa, noi abbiamo fatto sei risultati positivi prima della partita di oggi, ma non dovevano essere quattro vittorie, due vittorie, dovevano essere quattro vittorie, due vittorie, per come abbiamo giocato. Ma poi non siamo stati così concreti, così efficaci in fase offensiva, ma la squadra sta bene. Quindi affronteremo questa partita chiaramente con grande convinzione, con grande determinazione, con grande energia, perché vogliamo fare un ulteriore passo e siamo arrivati, abbiamo fatto un percorso incredibile in Champions, nessuno ci dava favorito col Tottenham, nessuno ci dava favorito col Napoli, in pochi ci danno favoriti con l'Inter e quindi adesso toccherà a noi dimostrare che invece ce la possiamo fare. Era una partita importante, abbiamo preparato bene e meno male siamo riusciti a... avere questa vittoria che era una partita da sei punti, oggi non potevamo perdere assolutamente e abbiamo fatto quello che c'è a questa mista. Mi sento bene, io cerco sempre di dare il massimo e purtroppo quest'anno ho avuto qualche infortunio di troppo che magari nel momento in cui magari potevo fare qualcosa in più, fare quel salto in più e mi è fermato l'infortunio. Adesso spero di riuscire questi ultimi mesi di stare bene e di fare il meglio per la squadra. No, sicuramente sarà difficilissimo, dobbiamo essere concentrati, dobbiamo preparare bene la partita che sicuramente ci aspetta una guerra e sappiamo che è difficilissimo perché l'Inter in Coppa gioca bene però noi quando giochiamo da Mila sicuramente anche per noi, anche per loro sarà difficile.